Altro allenamento, proprio total body da utilizzare con la nostra scala, mi appoggio le mani contro la scala che mi fa una sorta di freno e faccio knee up con le gambe, uno, tiri su, tiri su e la scala mi blocca, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ancora, tira. Senti bene anche le braccia che si attivano, continui a correre, bello scatto. E stop. Andiamo a lavorare anche obliqui con la nostra scala, scendo giù, divarico le gambe, ok, divarico le gambe e scendo con i fianchi e salgo su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Cambiamo lato. Gambe sempre divaricate, scendo giù con il fianco, uno e in su, due, addominali tesi, tre, quattro, cinque, sei. Sette, trattieni l'addome, otto, nove, dieci, ancora due, due, e uno. Perfetto. Un altro esercizio eccellente è proprio ballistico. Andiamo a fare una mini squat sopra, jump squat, anzi, su e scendo giù. Due, scendo giù, tre, scendo giù, scendo giù, scendo giù, quattro, scendo giù, cinque, sei, sette, otto, ancora nove, dieci, ancora due, uno. Settiamo, ottima, and stop. Flessioni, andiamo giù, portiamo la posizione o con le ginocchia basse o le ginocchia in stile militare. Andiamo a fare flessioni allontanando da noi il pavimento o la scale. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Perfetto. Ricuperi. Pronti per la seconda serie? Flessioni. Andiamo, scendiamo giù. Ti ho detto, allenamento con una scala, total body. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Perfetto. Altro allenamento, proprio total body, da utilizzare con la nostra scala. Mi appoggio le mani contro la scala che mi fa una sorta di freno e faccio Nia con le gambe. Uno. Tiri su, tiri su e la scala mi blocca. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ancora. Corra, tira. Senti bene anche le braccia che si attivano. Continua a correre. Bello scatto. E stop. Andiamo a lavorare anche obliqui con la nostra scala. Scendo giù, divari con le gambe, ok? Divari con le gambe e scendo con i fianchi e salgo su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Cambiamo lato. Gambe sempre divaricate, scendo giù con il fianco. Uno, e su, due, addominali tesi, tre, quattro, cinque, sei, sette, trattieni l'addome, otto, nove, dieci, ancora due, due, e uno. Un altro esercizio eccellente è proprio ballistico. Andiamo a fare un mini squat sopra, jump squat, anzi, su e scendo giù. Due, scendo giù. Tre, scendo giù. Scendo sulle gambe. Quattro, scendo giù. Cinque, sei, sette. otto, ancora, nove, dieci, ancora due, uno. Ottima. And stop. Flessioni. Andiamo giù. Portiamo la posizione o con le ginocchia basse o le ginocchia in stile militare. Andiamo a fare flessioni allontanando da noi il pavimento o la scale. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Perfetto. Ricuperi. Pronti per la seconda serie? Flessioni. Andiamo, scendiamo giù. Ti ho detto, allenamento con una scala. Total body. E... Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Perfetto.